E' avvenuta questa mattina in via Cordai, angolo via della Concordia, nel cuore di San Cristoforo, la consegna ufficiale degli ampi locali comunali al presidente del Banco Opere di Carità, Francesco Passantino, per lo stoccaggio di derrate alimentari destinate a famiglie indigenti. L'iniziativa, avviata circa un anno fa dall'assessore ai servizi sociali Carlo Pennisi, è una delle azioni realizzate per contrastare le forme di povertà, esclusione e disagio sociale che investono le famiglie e i cittadini siciliani, le cui richieste di aiuto stanno aumentando progressivamente e che consiste nella stipula di un'intesa tra il Comune di Catania e il Banco delle Opere di Carità Sicilia al fine di assistere le famiglie indigenti con fornitura di derrate alimentari, che avverrà nei tempi e nei modi utilizzati finora, in quanto questo è un magazzino per la conservazione e non un luogo di distribuzione. Il Comune dunque, dai locali, il Banco delle Opere di Carità, si impegna a ristrutturarli, tenerli puliti e collocare l'impianto di videosorveglianza. Questo magazzino ci darà l'opportunità di stoccare delle derrate alimentari provenienti da AGEA, oltre delle eccedenze alimentari raccolte per la Sicilia orientale, quindi non servirà solo per lo stoccaggio delle derrate alimentari per la città di Catania, ma per tutta la Sicilia orientale, quindi qua verranno anche associazioni del territorio di Siracusa, Messina, Enna, la zona del Calatino, quindi non solamente la città di Catania. Cercheremo di assistere più famiglie possibili, già l'anno scorso, nel 2012, abbiamo assistito 120 mila persone ogni mese, quindi significa che sono circa un milione di pacchi alimentari che abbiamo consegnato alle famiglie in difficoltà. Il 2013 sicuramente c'è stato un aumento almeno del 20% del tasso di povertà e grazie all'amministrazione comunale cercheremo di dare una forte risposta a un'emergenza che sempre più in questo momento sta crescendo. Di fronte a una crisi sempre più dilagante, che stagione oggi sta vivendo la solidarietà da parte di associazioni ma anche di privati? Ma il terzo settore è sempre stato definito la stampella, la terza stampella dell'amministrazione pubblica. In questo momento ci stiamo sostituendo anche le altre due gambe all'amministrazione pubblica perché purtroppo anche i trasferimenti della regione statale, regionali e statali sono diminuite e gli enti locali non possono più assistere i loro cittadini, quindi stiamo cercando di dare una risposta a noi del privato sociale e del volontariato per cercare di rispondere alle esigenze sempre più emergenti e quelle che vengono ad acutizzarsi. Una consegna di un locale di oltre 1000 metri quadri, quindi un locale molto grande, a titolo gratuito da parte del Comune? Quello che il Comune sta facendo è rendere disponibile al terzo settore, a questi organismi, quel patrimonio che non può gestire da sé e quindi abbiamo trovato che a fronte dell'impegno, del sostegno per 500-600 famiglie per un anno, attraverso i centri territoriali, i loro centri, distribuzione con modalità che sono stabilite insieme alla direzione, noi abbiamo dato questo immobile il cui recupero, la cui gestione è tutta a carico loro, quindi il titolo gratuito è un eufemismo per dire che ci stiamo distribuendo le spese di gestione di questa cosa.